60 anni è un'età critica per chi perde il lavoro. Praticamente noi siamo esodati perché comunque siamo vecchi per lavorare ma siamo giovani per andare in pensione. Marcello Gostinelli si sente abbandonato, rimasto senza lavoro a 4 anni e mezzo dall'inizio dell'avvertenza Beckett, lo storico stabilimento di Figline Valdarno che la multinazionale belga lasciò al proprio destino il 22 giugno 2018. Tra i destinatari delle lettere di licenziamento c'era anche Marcello. Dopo 4 anni la struttura è in queste condizioni, abbandonata, non si sa più niente, tutti si sono dimenticati della fabbrica che è stato il simbolo della crescita di un intero territorio. Da quel 22 giugno iniziò una battaglia a difesa dei lavoratori. Dai 318 iniziali, quelli attualmente senza un'occupazione, sono poco più di 20. Cosa si fa? Si va all'ufficio per l'impiego, si va all'agenzia interinali, ci si iscrive nelle agenzie e si prova a vedere se una botta di fortuna arriva. Le bandiere dei sindacati sono usurate dal tempo e di reindustrializzazione neanche l'ombra. Il 24 febbraio del 2021 in Regione Toscana, secondo me, si è consumata una delle pagine più brutte della storia del mondo del lavoro, perché la Regione Toscana insieme a una parte dei sindacati hanno firmato un accordo preventivo sui licenziamenti. Da quel febbraio del 2021 si è fatto sentire qualcuno? No, io nonostante abbia avuto un'esposizione importante, ho cercato di fare tutto, di tutto per aiutare a salvare questo stabilimento, io oggi sono rimasto solo. Abbandonato e deluso, in queste festività Marcello Costinelli si rifugierà negli affetti familiari. Non smetterà di cercare un lavoro, ma intanto ha deciso di lanciare un appello. A coloro che hanno fatto quella manifestazione in piazza il 29 giugno del 2018, continuerò ancora a ringraziarli. A coloro invece che il 24 febbraio hanno fatto quello che hanno fatto, chiedo solo un atto di coscienza, le dimissioni.